Quarto giorno di protesta da parte dei disabili alla regione Abruzzo della sede di Pescara. Giorno e notte a presidiare il palazzo istituzionale per l'ottenimento di un milione di euro per la legge regionale 57 del 2012 sulla vita indipendente. Hanno ottenuto un impegno da parte delle istituzioni. Proprio l'assessora alle politiche sociali, Marinella Sclocco, si era da subito attivata nella giornata di lunedì per far approvare lo stanziamento dei fondi a maggioranza e opposizioni. Un'animità ricevuta e ora partirà lo stanziamento diviso in tre tranche, ma la protesta continua. Un sossegno importante soprattutto perché abbiamo un bilancio di fatto molto tecnico. Non abbiamo tagliato ovunque. Devo dire che ci sono capitoli interamente a zero. Abbiamo deciso comunque di togliere ancora d'altro e di poter garantire un milione di euro per la vita indipendente che è una misura fondamentale. Riusciremo a mettere entro marzo, spero, fino a un milione di euro. Oggi non capisco i motivi della protesta perché io personalmente mi sono esposta, ho scritto due lettere e ho presentato una risoluzione firmata da tutti i consiglieri, di destra, di sinistra, di cinque stelle, tutti. Sinceramente oggi non so cosa rispondere, non so perché ancora sono qui. Un impegno ufficiale dalla massima istituzione in carica per la regione Abruzzo. Dicono i manifestanti vogliamo una conferenza pubblica di Luciano D'Alfonso per avere certezza del suo impegno immediato e soprattutto di quello futuro. Due anni fa il presidente Chiodi ci fece una promessa simile, anzi su quattro punti. In realtà poi dalla vecchia giunta non è stata mantenuta naturalmente parole di politico. Attualmente noi saremmo anche d'accordo però, come al solito, un minimo di garanzia, visto che siamo già stati scottati due anni fa, l'avremmo voluta con una dichiarazione pubblica del governatore. Il problema è che il governatore inspiegabilmente si rifiuta di convocare una conferenza stampa e dichiarare che ci garantisce poi l'erogazione di questo milione di euro. Ne siamo partiti da 5 milioni, ne accettiamo uno. inspiegabilmente non comprendiamo perché il governatore si rifiuti.